È stato presentato mercoledì 19 marzo il nuovo accordo per l'erogazione di microcredito a persone in difficoltà economica, firmato tra la Caritas di Ocesana e la Banca di Credito Cooperativo di Fano. Abbiamo sottoscritto la convenzione nel 2007, ha sottolineato il presidente della BCC di Fano, Romualdo Rondina, e oggi abbiamo deciso di rilanciare e rafforzare il fondo di garanzia. È un'occasione importante per essere ancora più vicini alle esigenze del territorio, che è anche una delle finalità principali del nostro istituto di credito. Intervenuto alla conferenza stampa di presentazione, anche il direttore della Caritas di Ocesana, Angelo Farneti, il quale ha ringraziato la BCC e ha ricordato come il microcredito non abbia una finalità prettamente assistenziale, ma anche e soprattutto educativa. Stefania Poeta, assistente sociale responsabile del centro di ascolto Caritas, ha spiegato nel dettaglio il nuovo accordo. Nel 2012 abbiamo assistito a una diminuzione di stranieri che si rivolgevano alla nostra struttura e ad un aumento invece di famiglie italiane, che nella maggior parte dei casi sono fortemente indebitate. Ovviamente il microcredito non vuole essere la soluzione a tutti i problemi, ma sicuramente rappresenta uno strumento molto importante per instaurare con le persone un rapporto di fiducia. Intervenuti alla conferenza anche il direttore generale Giacomo Falcioni e il vice direttore generale della BCC di Fano Giovanni Mengarelli, i quali hanno ribadito l'importanza di questo accordo che rientra nelle politiche di attenzione al territorio che la BCC sta portando avanti.